Gli diciamo grazie perché questa è una cosa, un gesto squisito di affetto e di attenzione per noi. Deve ancora iniziare perché l'inizio ufficiale sarà la celebrazione delle 17 in cattedrale. Prima ha voluto venire a trovare voi e ci fa un altro applauso grosso. Siamo una piccolissima rappresentanza perché di più per noi è già una cosa straordinarissima questa ancora di questi tempi. Gli anziani è la prima volta che scendono insieme ai ragazzi diversamente abili da un anno e mezzo, quasi insomma. Però l'altro grazie che vogliamo dire insieme con lei, addio innanzitutto ad un anno se ha fatto la sua parte perché non abbiamo avuto nessuna perdita, ma proprio nessuno. Nei è tra gli anziani, nei tra i ragazzi e anche pochi insimi ammalati diciamo la verità, e anche tra i nostri operatori. E quindi è stato veramente una cosa a protezione, un dono straordinario e di questo siamo molto molto riconoscenti. Carissimi grazie dell'invito, grazie della vostra accoglienza così calorosa e sincera. Certamente questo è il primo di tanti incontri che accadranno, che accadranno per darmi la possibilità di conoscere meglio questa realtà così variegata e così importante. Quindi il mio è una rivederci, una rivederci per potervi conoscere personalmente, per potervi incontrare personalmente, per potervi guardare, come è stato detto prima, negli occhi, per poterci stringere la mano, per poterci trasmettere affetto, quell'affetto di cui tutti abbiamo bisogno. Quindi grazie veramente di questo invito, grazie di questa accoglienza e arrivederci, arrivederci con una richiesta, con una richiesta di pregare che possa essere in questa Chiesa segno dell'amore di lui, dell'amore che ci rende capace di amare, e di questi tutti abbiamo bisogno, di suo amore e di amarci tra di noi. Questo è un segno grande, importante di questo amore. Quindi ringraziamo il Signore insieme, dicendo Padre nostro. Un disegno simbolico del Vescovo, ha detto che ha fatto il ritratto ancora prima dell'arrivo. Lo facciamo vedere tutti. E c'era anche il cartello di benvenuto dietro, ah ecco dietro, ce ne sono due, c'è il cartello di benvenuto. Caro Vescovo, caro Vescovo, noi ragazzi della Parole, lo diamo, il benvenuto, buon lavoro. Grazie. Viva, bene. Viva. Fanno un piccolo mancio, sono i lavoretti che fanno loro, abbiamo un gruppo che si chiama Talenti all'Opera addirittura. Sono piccole cose ma tutte belle e simpatiche che fanno loro. Bene, lasciamo il Vescovo che adesso avrà un momento molto impegnativo, lo lasciamo libero. La prossima volta più da vicino. Ciao a tutti, grazie. Grazie. Grazie.